L'abbiamo trovato in un vicolo con la gola tagliata. È lo stile di Cassio. È tornato. Paul, il direttore Roger Bell. FBI. Lui conosce il tuo assassino più di chiunque altro qui dentro. Questa è opera di Cassio. Ho rintracciato e interrogato i pochi testimoni dei suoi crimini. Ho analizzato il suo modus operandi, ricostruito i suoi deliti in ogni dettaglio, passo dopo passo. Conosco quest'uomo. Questo tizio è il migliore che hai. Che cosa ne pensi, Paul? Cassio è morto. Dimostralo. Dimmi qualcosa di Cassio. È un assassino. Penso che sia tornato e voi non avete una cazzo di idea di come fermarlo. Dovresti abbandonare questa indagine. Hai una moglie, due figli. Io sono preparato. Tu no. So la verità. Hai fatto un sacco di domande su di me, ma noi ci conosciamo. No.